Per me è incostituzionale non applicare la costituzione come è stato fino ad oggi visto che una riforma del 2001 non ha ancora trovato attuazione. Le critiche vorrei che si rivolgesse a un testo quando il testo ci sarà e non sugli appunti di lavoro che stiamo costruendo. Inutile agitarsi quando ancora una bozza ufficiale non c'è. E questo è il messaggio, niente affatto velato che il ministro Calderoli rivolge a quei governatori del Sud che hanno già polemizzato con il provvedimento sull'autonomia differenziata, in primis il Campano De Luca che ne ha chiesto lo stop. Così a margine della prima riunione della conferenza delle regioni che giurano i diretti interessati si è svolta nella massima armonia. Mi sembra che da parte di tutti, ovviamente con sfumature per arrivare a risultati diversi ma ci sia la volontà di andare verso un processo di autonomia e anche di finalmente attuazione dei LEP, anche questo passaggio condiviso da tutte le autonomie regionali. LEP che sta per livelli essenziali di prestazioni. Ovvero quei servizi che lo Stato deve garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. Per Zaia non c'è nessuna incompatibilità, anzi. Chi è contro l'autonomia è contro la Costituzione. Dall'altro è fondamentale che si portino avanti anche le grandi sfide dei LEP che oggi non sono realtà, ma non per colpa delle regioni ma per colpa di chi fino ad oggi non ne ha mai parlato. Ricordo anche che noi siamo legati a doppio filo, siamo come dei giamelli sia mesi. Quindi il dibattito del nord-sud è inutile, visto e considerato che la vita di uno era la vita dell'altro, la morte di uno era la morte dell'altro. Molto meno diplomatico da Treviso il sindaco e il presidente Anci Mario Conte. Chi oggi teme l'autonomia sono coloro che non ce l'hanno, tra l'altro, compresi noi, soltanto che noi cerchiamo di guardare avanti. Invece le regioni del sud preferiscono rimanere in questa situazione con i dati che tra l'altro li indicano non certo come regioni virtuose da questo punto di vista. Noi restiamo dalla parte della responsabilità, loro probabilmente dalla parte dell'assistenzialismo statale. Per i DEM Veneti invece l'unico approccio possibile è quello della gradualità. Abbiamo detto alla regione Veneto, ma scusa, invece di chiedere tutto per non ottenere niente, partiamo da alcune materie fondamentali e su questo realizziamo il nostro modello di autonomia. Grazie a tutti.